Benvenuti nel podcast di M&A International Consulting, qui i risparmiatori medi si trasformano in investitori esperti. Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio di Investire Semplicemente, il podcast di Martin Associate International Consulting che parla di economia, investimenti e finanza. La iatrogenesi dei fondi di investimento e dei consulenti finanziari. Un termine e un titolo abbastanza duro, che però secondo me è molto attuale e molto corretto, seppur ovviamente è stato preso in prestito da un'altra branca che è quella della medicina e della farmacologia. Che cosa intendiamo per iatrogenesi? Inizialmente dobbiamo sicuramente partire con una definizione e la definizione è la seguente. In medicina infatti la iatrogenesi indica una patologia o un effetto collaterale o più di un effetto collaterale o comunque complicanze dovute a farmaci o trattamenti medici in generale risultati errati. Ora, per quanto riguarda la finanza, la iatrogenesi si determina e evolve in modi completamente diversi rispetto alla medicina, ovviamente, considerando che la branca è totalmente diversa. Ma il suo concetto portante non è così differente. Infatti, guardando a quello che accade, a individui, aziende, che si affacciano a consulenti finanziari, bancari o non indipendenti quantomeno, possiamo renderci conto che esiste una forma di iatrogenesi e sicuramente esiste l'errore del professionista. Ma cerchiamo di fare un passo indietro perché, detto così, potrebbe risultare difficile, anche se chi mi segue da un po' ormai dovrebbe aver capito a cosa mi sto riferendo. Tuttavia, voglio essere molto chiaro in questo podcast e vorrei che quindi il concetto passasse in maniera cristallina. Quindi facciamo un passo indietro, cerchiamo di spiegare chiaramente, con esempi, in modo semplice, quello che sto cercando di dire con questo termine. Innanzitutto, il termine iatrogenesi, che abbiamo appunto preso in prestito dalla medicina e dalla farmacologia, è un termine che io stesso prendo in prestito da Taleb nel libro Antifragile e anche nel libro Giocati dal caso. Iatrogenesi è un termine molto più antico, ovviamente, di Taleb e dei libri che sono legati più o meno alla finanza e non solo. In realtà Taleb non parla di questo termine in relazione alle consulenze finanziarie o tantomeno ai fondi di investimento, piuttosto parla di tutt'altro, parla del termine in generale e anche nell'ambito della medicina di come, appunto, spesso uno dei suoi principi cardine. È meglio togliere piuttosto che aggiungere. Si possa parlare di cure terapeutiche, di dati e anche di altri ambiti. Ora, noi non ci vogliamo soffermare su questo o in questo podcast, tuttavia voglio prendere, appunto, in prestito il termine iatrogenesi per descrivere quello che accade nei mercati finanziari quando, appunto, ci si rivolge a consulenti che non sono indipendenti o a fondi comuni di investimento. Infatti, il consulente non indipendente, che possiamo associare metaforicamente a il medico che cerca di curare le ferite del paziente, commettendo però degli errori, ed è questa, appunto, la definizione di iatrogenesi, quando il medico, commettendo degli errori, fa più male che bene con le cure che elargisce, beh, in questo caso il consulente finanziario fa esattamente la stessa cosa. Cerca di ricucire una situazione che può essere di instabilità, cerca di, appunto, aiutare il cliente, in questo caso, a migliorare la sua situazione finanziaria, a ingrandire le proprie ricchezze, a creare un piano per il futuro, facendo, in realtà, più danni che altro. Ora, capisco che è un termine molto duro. Consulenti finanziari non indipendenti e fondi comuni di investimento non fanno propriamente danni dal punto di vista, appunto, fisico o da un punto di vista economico, anche se questa parte la approfondiremo meglio. La realtà dei fatti è che fanno danni al tempo di una persona. Ora, so che questo tema potrebbe essere un po' filosofico, ma provate a seguirmi. Mentre i fondi di investimento, che appunto chiedono commissioni altissime, e i consulenti finanziari non indipendenti, che appunto aiutano nella scelta dei clienti, di solito selezionando questi fondi altamente inefficienti per il cliente, effettivamente non creano dei danni immediati, diretti e materiali al cliente. Piuttosto, quello che fanno è far perdere tempo al cliente, creandogli ovviamente un danno economico legato alla, appunto, mancanza di tempo. Nel momento in cui un cliente ha bisogno di un piano di investimento di lungo periodo, che gli permette di aumentare i propri risparmi, ingrandire ed arricchire il proprio benessere e il proprio reddito, il tempo è una variabile fondamentale che deve essere tenuta in considerazione. Spesso abbiamo detto come, appunto, l'investimento corretto è basato su un obiettivo di lungo periodo, una strategia costruita su misura per il cliente e che deve essere efficiente, e poi c'è bisogno di tempo per far sì che la strategia riesca a raggiungere l'obiettivo prefissato. Ora, il tempo è una variabile imprescindibile e fondamentale, l'equazione che ho appena descritto è veramente semplice da comprendere. Eppure, nel momento in cui ci si avvicina a fondi di investimento altamente inefficienti e consulenti legati a questi fondi di investimento o queste aziende che, appunto, promulgano questi fondi di investimento, semplicemente il tempo viene distorto. Con questo intendo che acquistare fondi di investimento non efficienti fa sì che il cliente perda tempo in un investimento che non lo aiuterà a raggiungere gli obiettivi prefissati, in un investimento che è altamente inefficiente e che fa guadagnare semplicemente il fondo di investimento che, anzi, l'emittente che ha emesso il fondo di investimento. Tuttavia, il miglior modo per aiutare il cliente dovrebbe essere quello di proporre fondi di investimento o strumenti finanziari che siano assolutamente efficienti per raggiungere gli obiettivi che il cliente sia prefissato. Questo, però, non avviene. Ed ecco perché io la chiamo, prendendo appunto il termine in prestito da Taleb, Iatro Genesi. Perché in questo caso il consulente finanziario, invece di cercare, facendo un parallelismo come farebbe un medico dato il giuramento di Ippocrate, quindi cercare di salvare, aiutare, migliorare le condizioni di spingere il cliente a avere un investimento efficiente per la sua situazione finanziaria, in questo caso il consulente finanziario sta, con dei conflitti di interesse di cui abbiamo già parlato in passato, sta piuttosto favorendo il guadagno dell'emittente piuttosto che la situazione finanziaria del cliente e di conseguenza il suo benessere finale. Questa è una forma di Iatro Genesi importante che non dobbiamo dare per scontato. E i peggiori fondi che appunto sono sotto questa categoria, quindi gli atrogenici, sono sicuramente i fondi di assicurazione. Questi fondi assicurativi, di cui ovviamente ce ne sono moltissime varianti, quindi i classici SICAV, cioè società capitale variabile, ma anche ovviamente fondi di investimento legati a quello che è la raccolta di capitali tramite appunto stipula e stipulazione di polizze sulla vita. Questi fondi tendenzialmente sono legati al risparmio gestito e sono solitamente proposti a clienti di ogni tipo. Fondi che spesso vincolano il risparmio a un contratto di solito lunga durata, può essere 10, 20, 30 anni. Nel momento in cui si decide di smettere di versare delle quote e quindi uscire dal contratto, magari anche ritirando i fondi che si sono investiti, a quel punto le compagnie assicurative semplicemente fanno pagare costi incredibilmente alti per poter uscire, che di solito fa sì che il cliente non esca, perché sennò uscirebbe in perdita. Ora, questa forma di investimento è la più iatrogenica che io abbia mai visto e conosca, per il semplice fatto che vincola i risparmi del cliente a una data futura, a meno che in realtà il cliente non decida di perdere dei soldi sull'investimento effettuato, promette dei guadagni stabili, ma che alla fine sono totalmente irrisori considerando quello a cui potrebbe puntare il cliente in futuro e i venditori di questi fondi di investimento assicurativi sono solitamente squali che cercano di venderti i prodotti con le unghie e con i denti, perché ovviamente o la loro commissione o il loro bonus semplicemente sarà inferiore nel momento in cui tu decidi di uscire dalle pollizie. Solitamente quello che io dico ai miei clienti è più oppongono resistenza quando appunto tu decidi di ritirare quei fondi dall'investimento effettuato più devi insistere a ritirare quei fondi dall'investimento effettuato. Quindi ecco che quindi il conflitto di interesse è all'apice di questi strumenti e se siete in questo momento investiti in fondi assicurativi io vi consiglio di uscire il prima possibile a meno che ovviamente non vi stiate trovando bene con i rendimenti che i fondi vi stanno proponendo. Cosa abbastanza difficile, indubbiamente. Capisco perfettamente che questa potrebbe essere vista da alcuni come una generalizzazione ma la realtà dei fatti è che io conosco perfettamente il mercato finanziario e quelli che possono essere rendimenti per un investitore medio che utilizza una strategia semplice di mercato senza veramente dover andare a creare strategie complesse che poi è una delle basi su cui io ho strutturato il mio programma di coaching e di consulenze finanziarie ma in realtà è semplicemente anche come io o parte dei miei investimenti sono investiti. Quindi semplicemente conoscendo le alternative io vedo un opportunity cost veramente alto in questi investimenti e non solo. Avere a che fare con delle emittenti e dei consulenti finanziari che semplicemente non vogliono il tuo bene ma piuttosto vogliono il bene dell'emittente finanziaria per cui lavorano beh, non è qualcosa che a me interessa dal punto di vista di un cliente. Quindi semplicemente io cercherei di evitare a tutti i costi questa forma di atrogenesi per andare da un consulente indipendente che ovviamente ti può consigliare esclusivamente ciò che è utile per te. Questo perché il consulente indipendente non è pagato da emittenti particolari di fondi di investimento piuttosto è pagato dal cliente stesso e quindi il consulente finanziario indipendente sa perfettamente che solamente nel momento in cui fa un buon lavoro il cliente tornerà ad investire con lui o tornerà ad usufruire dei suoi consigli. Ed è per questo che io davvero vi consiglio di utilizzare un consulente indipendente per iniziare a capire come gestire le vostre finanze piuttosto che andare in banca che ovviamente sembra la scelta più semplice e poi ritrovarsi incastrati con dei prodotti che vincolano i vostri fondi che non sono utili per voi che vi fanno perdere tempo e che non sono efficienti e che alla fine dei giochi sono totalmente iatrogenici. Inoltre un'altra forma di iatrogenicità e in realtà di conflitto di interesse in generale è la complessità di questi strumenti di investimento in confronto ad alternative molto più semplici che possono essere e anzi sicuramente sono più efficienti per il cliente stesso. Infatti questi fondi assicurativi che ormai in questa puntata sono presi ad esempio come il prodotto più sbagliato per il risparmiatore medio semplicemente sono molto difficili da comprendere i costi sono spesso confusionari e vogliono essere ovviamente confusionari per il cliente e appunto fanno sì che il cliente si affidi totalmente al proprio consulente bancario o assicurativo in base a quello che è il fondo sottoscritto. Ora, in questo caso noi vogliamo fare il contrario. Come Taleb suggerisce nei suoi libri spesso una riduzione è meglio che un'aggiunta. Con questo si intende che spesso è meglio ridurre una quantità di un elemento piuttosto che aggiungerne altri. In questo caso stiamo parlando di complessità. È meglio ridurre la complessità e far sì che l'investimento sia semplice da poter eseguire così che risulti più comprensibile così che risulti più semplice così che risulti più gestibile da parte del cliente piuttosto che avere un investimento ultra complesso di cui è facile perdere traccia che crea confusione che crea dubbi e che magari alla fine dei giochi non è efficiente per raggiungere gli obiettivi prefissati. Quindi io sono un estremista fautore della semplicità semplicità che non deve essere minimamente confusa con mancanza di conoscenza o mancanza di intelligenza anzi è piuttosto il contrario è molto più difficile semplificare almeno per quanto riguarda l'educazione a mio avviso piuttosto che overcomplicare e non solo credo che sia molto più intelligente scegliere di investire in maniera semplice ed efficiente piuttosto che arrovellarsi per creare teorie complesse o pratiche complesse che possano portare semplicemente a tanto caos confusione e alla fine una perdita di tempo che non aiuta nessuno. Ecco che quindi io sono un fautore di questo movimento ed è per questo anche che apprezzo moltissimo gli iscritti di Taleb in questo senso di cui ho consigliato tra l'altro l'acquisto la settimana scorsa. In finanza è molto semplice cadere nella trappola della overinformazione e dei dati di solito talmente tanti da creare semplicemente confusione e caos nelle menti dei risparmiatori e degli investitori che cercano invece semplicemente di dare valore ai propri risparmi. Questa è una trappola molto comune che di solito gli investitori e i risparmiatori medi affrontano quando per la prima volta si affacciano al mondo dei mercati finanziari. Infatti molti dei miei clienti e quindi lo studio è totalmente empirico vengono dal trading o magari da fondi bancari fondi assicurativi appunto come abbiamo visto prima e poi dopo qualche anno di analisi dei propri investimenti decidono o realizzano che quegli investimenti non sono stati profittevoli e che quindi hanno perso tempo. Ora voi dovete cercare di evitare di perdere tempo. Se ormai avete perso tempo non dovete cruciarvi non dovete disperarvi la maggior parte di voi è ancora in tempo per poter recuperare senza problemi. D'altra parte se siete abbastanza giovani e state ascoltando questo podcast e non avete ancora investito i vostri soldi ma state pensando di farlo a quel punto io vi sconsiglio vivamente di utilizzare consulenti e fondi di investimento che sono iatrogenici e che quindi hanno il rischio di potervi condurre in un investimento che non sia corretto per voi che vi faccia perdere tempo e che tornando alla metafora della medicina vi possa far più male che bene. Quindi avete capito il mio punto di vista forse avete anche imparato un termine nuovo o forse lo conoscevate già fatemelo sapere nei commenti per curiosità personale spero che questo episodio come anche tutti gli altri vi sia utile per capire dove allocare le vostre risorse e il vostro tempo scegliete come voler raggiungere i vostri obiettivi e riflettete sul metodo migliore che secondo voi può essere in linea con i vostri piani per migliorare la vostra situazione finanziaria è molto importante che voi vi fermiate un attimo e riflettiate su quello che io vi ho discusso oggi e magari anche su tutte le altre nozioni che magari avete imparato seguendo questo podcast poi se sarete interessati a creare un percorso di investimento con la Matan Associate International Consulting e quindi con me e con il mio team ovviamente siamo qui per questo e facciamo questo di mestiere vi possiamo aiutare ad investire i vostri soldi al meglio nei mercati finanziari appunto cercando di rendere efficienti le strategie e anche cercando di stimare gli obiettivi basandoci sulla realtà sulla statistica sui dati sui numeri e su tutto quello che riguarda l'investimento razionale ora è stato un piacere essere qui con voi noi ci sentiamo ad un altro episodio ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.